Come si costruisce uno spot pubblicitario? Sarà così il regista Riccardo Paoletti il protagonista della serata organizzata per sabato 18 marzo dalla Young's Club Arezzo Mecenate. Un regista che si occupa di pubblicità e cinema. Ci intratterà nella serata con i dietro le quinte di grandi pubblicità, di realizzazioni di grandi spot e campagne pubblicitarie e ci narrerà anche aneddoti dei suoi film realizzati, uno in particolare anche in provincia di Arezzo. Questo evento si inquadra nella nostra annata laionistica in cui abbiamo cercato di coniugare persone aretine nate, cresciute, educate ad Arezzo con la loro esperienza fuori Arezzo in cui appunto o vivono all'estero o vivono in altre parti d'Italia. Durante la serata verranno infine consegnati il premio Mecenate e il premio Mecenate speciale. Il premio Mecenate verrà assegnato all'Associazione Pronto Donna, un tema purtroppo di strettissima attualità, oserei dire quotidiana, in quanto abbiamo ritenuto che sia un tema meritevole della massima attenzione e sensibilizzazione. Mentre il premio Mecenate speciale verrà assegnato al professor Luca Berti, presidente dell'Accademia Storica Retina, quale persona che abbia dato giusto appunto lustro al nostro territorio in ambito culturale e meramente storico.